Musica Benvenuti, benvenuti alla prima puntata, diciamo, secondo i nostri standard della nuova stagione della Chiesa nella città. La settimana scorsa abbiamo detto si è fatto una sorta di puntata ponte fra gli speciali estivi e la ripresa della stagione. E comunque siamo contenti naturalmente di essere sempre con voi. E qui con noi un ospite questa settimana che è Don Maurizio Zago, lo presento subito, responsabile dell'ufficio di pastorale missionaria della Diocesi di Milano. È la prima volta nei nostri studi, quindi lo ringrazio ancora di più, diciamo così. Don Zago è qui con noi per parlare dell'estate, fra virgolette, missionaria dell'Arcivescovo, che ha compiuto due viaggi importanti, uno in Perù, più prolungato, e uno in Congo. Uno in luglio, quello in Perù, e quello in Congo in agosto, dal 16 al 23 d'agosto, quello in Perù dal 15 luglio al 26 luglio. Due parti del mondo, lo capite, molto diverse, che sono state visitate. Don Zago accompagnava l'Arcivescovo e ci facciamo un po' raccontare la logica di questi viaggi, che come ripeto sono viaggi missionari, sono viaggi nei quali l'Arcivescovo va a visitare i nostri fideidonumi. Allora chiedo subito, cosa sono e chi sono i fideidonumi? Con questo termine si fa riferimento anzitutto ad un'enciclica di Pio XII scritta nel 1957, dove appunto per la prima volta vengono invitati i sacerdoti diocesani all'interno del loro ministero svolto nella diocesi di riservare un tot anni da vivere in terra di missione. Quindi l'idea di fondo è che la fede che abbiamo ricevuto è un dono, è un dono di cui dobbiamo ringraziare, è un dono che dobbiamo mettere a disposizione anche là dove c'è più bisogno. E in quegli anni Pio XII rilanciava, chiedendo appunto l'aiuto alle diocesi e quindi ai preti diocesani, rilanciava l'evangelizzazione in terra africana soprattutto, quindi è nata un po' con questa intuizione e i primi che dalla nostra diocesi sono andati, siamo alla fine degli anni, praticamente fine degli anni 50 e inizio anni 60. Ecco diciamolo subito, i fideidonum non sono solo sacerdoti, anche se la maggioranza è di sacerdoti, perché ci sono consacrati, consacrate, per esempio una consacrata è in Turchia, se non sbaglio, Maria Grazia Zambon, voi avete visitato l'anno passato anche la Turchia, sì siamo andati anche là. E poi vi sono anche dei laici, una coppia di sposi era a Gerusalemme, ora capite la situazione tale, prima deve venire la sicurezza delle persone, però c'è una coppia invece... C'è un'altra coppia che è in Peru, a Pucalpa, che abbiamo appunto visitato nel recente viaggio che abbiamo fatto. Ecco, il Peru, che realtà avete trovato? Allora, per la prima volta quest'anno, i giorni erano abbastanza lunghi, diciamo, erano 11 giorni, abbiamo visto tutte e tre, diciamo, le aree topografiche peruviane, quindi la parte del mare, la costa, la parte andina, le montagne, siamo saliti a Chacas, che è a 3200 metri, e poi la parte della selva, la parte amazzonica. Ecco, sono tre zone peruviane molto diverse tra di loro, in realtà sulla parte litorale abbiamo visto Lima, che è una megalopoli, quindi con tutti i problemi che le grosse megalopoli hanno, e Uacio, dove abbiamo un sacerdote, Don Antonio Colombo, ormai è lì da molti anni, che è una città di più di 100.000 abitanti, però un po' più ordinata, ecco, di quello... Quindi l'aspetto cittadino l'abbiamo visto soprattutto sull'area costiera. Poi ci siamo portati in Amazzonia, Pucalpa è una grande città, fa mezzo milione di abitanti, è un po' la capitale di quell'area amazzonica, di quell'area amazzonica, e lì abbiamo appunto la coppia e altri due fidei donum, e il vescovo, Monsignor Martina, ha chiesto di poter inviare anche altri, ancora altri sacerdoti, infatti stiamo cercando qualcuno che in diocesi, come dire, dia la disponibilità di andare. Per sé, mi permetta colgo l'occasione, per sé stiamo cercando anche una coppia che vada a continuare, a coppie di sposi, certo che vada a continuare il lavoro che Marta e Kumar stanno facendo, quindi magari anche questa trasmissione può lanciare l'appello. Fidei donum cercasi e possibilmente fidei donum con famiglia, e quindi sarebbe certamente bello. Ecco, questi sono i luoghi che avete visitato. Come ha percepito la realtà peruviana e la posizione dei cristiani? Beh, allora, la religiosità peruviana penso sia abbastanza conosciuta, e quindi, voglio dire, dal punto di vista religioso è un popolo... Qui vediamo, scusi se la interrompo, una visita antica, vedete, il cardinale Dionigi Tettamanzi. Beh, questo è proprio, sì, infatti. Ecco, un tipico esempio della religiosità peruviana che noi conosciamo, grazie al Signor de los Milagros. Certo, certo, ci sono appunto Santa Rosa da Lima, quindi è una religiosità molto molto forte, quindi la percezione di Dio fa parte, diciamo, del sentire comune. Abbiamo trovato comunità vive, ci sono anche molte sette in realtà, però le comunità che abbiamo visitato ci sono sembrate particolarmente vivaci. Di fede più recente è l'area amazzonica rispetto all'area costiera, per esempio, perché appunto i primi sono andati all'Amazzone e è stata visitata dopo. Diversa è l'area andina, però, allora, l'area andina è molto ampia, noi abbiamo visto là dove è presente l'operazione Mato Grosso. Sì. E devo dire che quello che abbiamo visto, anche le opere che l'operazione ha fatto, ha dato la possibilità a molti giovani di accostarsi al Vangelo, la fede cristiana, e abbiamo incontrato delle comunità, delle comunità vivaci dove le abbiamo incontrate. Forse, non vorrei sbagliare, mi correggo ovviamente se invece sbaglio, in Amazzonia è stata creata anche una nuova diocesi. L'Amazzone, lo sono tante le diocesi amazzoniche, non c'è solo questa, per cui in questo momento io non saprei rispondere. No, mi pareva di ricordare. Senta, in questo viaggio in Peru abbiamo visto l'arcivescovo che è stato circondato d'affetto, d'amicizia, d'acalore. Questo rapporto fra chiese e sorelle continua a dare i suoi frutti, anche passati decenni e decenni dall'inizio appunto di una Missio ad Gentes pensata anche con i Fidei Donum in modo diverso, forse da un tempo. Allora, i frutti senz'altro ci sono, ci sono in chi vive questa esperienza, perché tornando riesce ad avere un orizzonte molto più ampio, più allargato. Direi che per vedere però i frutti di questa cooperazione tra chiese abbiamo bisogno di tempo. Io credo che questa esperienza dei Fidei Donum, che è un'esperienza in Italia ormai molto diffusa, permette appunto la conoscenza di chiese e sorelle, chiese diverse, hanno tradizioni diverse, modi di vivere la fede diversa, modo di vivere il rapporto tra fede e società diversa, situazioni sociologiche diverse, modi di celebrare differenti. Ora invece di metterci nella posizione di dire noi conosciamo già quello che c'è da fare, come avrebbe, come anch'io devo dire la verità. Ricordo quando ero giovane prete, l'idea di vivere un'esperienza in missionaria mi veniva. Lei è stato Fidei Donum? Sì, sì, sono stato in Zambia. In Zambia. L'idea di vivere un'esperienza c'era, ma ricordo che l'orizzonte mentale era quello di dire vado a portare qualcosa. Ecco, ora, certamente c'è una fede che va diffusa, va fatta conoscere, però nel corso degli anni quello che è emerso è che l'esperienza missionaria è sempre un dare e un ricevere. immediatamente, voglio dire, non c'è prima un dare e poi un ricevere. Per cui anche la nostra fede qui viene aiutata ad essere capita meglio, se ne colgono la ricchezza rispetto a quelle esperienze e anche le cose che dobbiamo imparare da loro. Tra l'altro nella veglia missionaria sempre di più ci sono ovviamente i partenti a cui viene conferito il mandato, coloro che vanno in terra di missione, ma ci sono tanti che dalle terre di missione vengono a Milano magari per motivi di studio, per motivi di cura, per motivi di pastorale, imparano magari a fare gli oratori, faccio per dire. Allora, noi come ufficio in realtà seguiamo una parte minima di queste persone che vengono, però i religiosi presenti in diocesi che vengono da altre parti del mondo superano le 800 unità, tra suore in diocesi. In diocesi. E c'è una cura che è iniziata da tempo con il vicario appunto per i religiosi, anche per aiutare queste persone che arrivano a conoscere in qualche maniera il luogo in cui sono arrivati e quindi mettersi a disposizione. Però questo è un aspetto sì veramente interessante. Ormai da qualche anno la veglia missionaria vede più sacerdoti e religiosi che accogliamo di quelli che inviamo. Sì, è una visione alle volte un po' strana in Duomo, perché tu ti aspetti di vedere tanti che partono e vedi molti anche che arrivano a volte di più. Ma è la chiesa, il suo carisma che attraversa i secoli. Vi hanno regalato in Peru anche un'immagine, una statuina della Madonnina. Sì, è stata una sorpresa questa. È stata una sorpresa duplice. Primo perché l'immagine della Madonnina era proprio bella. Ecco, noi ce l'abbiamo. Ecco, quindi l'arcivescovo l'ha tenuta. Siamo a Chacas, che è praticamente il luogo dove in Peru l'operazione matogrossa è fiorita, diciamo, per l'opera di padre Ugo De Censi. Quindi è stata una sorpresa quella, ma soprattutto è stata una sorpresa vedere anche tutti i vari laboratori, questo del legno, pietra, vetro, legno appunto, che hanno aiutato l'artigianato locale ad esprimersi secondo le abilità che i ragazzi hanno. Ebbè, è certamente una bella esperienza anche perché appunto c'è una logica, imparano un mestiere, imparano, si impara, ecco. Questo credo che sia uno degli aspetti, ovviamente oltre che portare il Vangelo, più importanti, cioè dare gli strumenti per poter condurre una vita dignitosa. Allora, adesso ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo tra pochissimo perché parliamo invece dei giorni trascorsi dall'arcivescovo e da Don Maurizio Zago, il nostro ospite in Congo. Realtà diversissime, lo capite. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi da cui usciamo ovviamente in modo virtuale per andare nella Repubblica Democratica del Congo dove l'arcivescovo è stato, come abbiamo detto, dal 16 agosto al 23. Com'è andato invece questo viaggio missionario? Dunque è andato molto bene, è andato molto bene da tutti i punti di vista, gli incontri che abbiamo fatto, le realtà che abbiamo incontrato e anche, devo dire, i contenuti che sono emersi da questa visita. È stato un po' parziale, nel senso che noi abbiamo soltanto due sacerdoti in Congo, a Kinshasa, quindi abbiamo visto soltanto la capitale, a Megalopoli di Kinshasa, non si sa quanti abitanti siano, quindi abbiamo visto solo Kinshasa e abbiamo visto solo i luoghi dove operano i nostri preti che per sé non sono in parrocchia, quindi è un'esperienza un po' differente rispetto a tutte le altre. Loro hanno una convenzione, sono cappellani di un'università, proprio l'università statale, tra l'altro, dove appunto stanno iniziando un po' il loro cammino e l'esperienza li ha portati ad incontrare la realtà dei ragazzi di strada, degli orfani, quindi hanno iniziato anche un'attività in questa Casa Laura dove accolgono degli orfani, dei ragazzi disabili, quindi questa è, diciamo, la parte precisa che noi abbiamo visto, andando a incontrare anche altre istituzioni che operano su questo terreno. Ecco, di ritorno dal Congo, l'arcivescovo ha rilasciato, diciamo, un'intervista, sorrido perché sono stata io a realizzare questa intervista, e io gli ho chiesto se questa visita aveva portato ai suoi occhi quell'auspicio di speranza che era stato espresso sempre dall'arcivescovo invece alla partenza. E lui ha risposto di speranza ne ho vista poca. Quando ho chiesto, ovviamente, ai locali le cose vanno meglio o peggio di quando sono venuto l'altra volta nell'estate del 2019, non ho ottenuto risposte incoraggianti. Però c'è in Congo una riserva di giovinezza inesauribile nella Chiesa. E questo, certo, è un fatto di non poco conto rispetto alle nostre Chiese che paiono sempre più anziane nei fatti. Sì, beh, questo è un dato di fatto, quindi la giovinezza della popolazione del Congo la si vede. Ecco, il tema della speranza è un tema, penso, difficile. Personalmente, devo dire che la forza della speranza la percepisco, personalmente, cioè sono d'accordo che non è facile vederla nei fatti e nelle cose che vedi, però la si percepisce nel desiderio di andare avanti nonostante le difficoltà che stanno vivendo. C'è un desiderio di vita e un'apertura al futuro, una spinta verso il futuro che lì la si percepisce. Ecco, mentre tutti i segni sarebbero da dire di scoraggiamento. Invece, pur nel caos, perché Kinshasa è veramente una città caotica e pur nel caos ciascuno cerca di trovare il modo con cui continuare e negli incontri si respira questa voglia di andare avanti e di andare verso il futuro. Nonostante che siano tanti i fatti dolorosi, uno in specifico a cui voglio accennare che ci ha colpito come nazione con l'uccisione a tradimento, vorrei dire, del nostro ambasciatore appunto nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Tanasio, lo ricorderete. Ecco l'immagine. Era il 22 febbraio del 2021, andava a portare aiuti umanitari, era un uomo buono, è stato definito quasi un missionario vestito da ambasciatore. Ecco, l'arcivesco ha celebrato una messa in ricordo, in suffragio. È viva la memoria dell'ambasciatore a Tanasio? Sì, devo dire che è proprio viva, almeno negli ambienti che abbiamo visitato e le persone che abbiamo incontrato, il ricordo suo è vivo, è vivo perché andava ad incontrare persone laddove non ci si immaginerebbe che un ambasciatore andasse. Quindi lui aveva quest'occhio proprio per andare a cercare anche i luoghi di sofferenza e vedere i segni di speranza che potevano essere portati là. Tra l'altro giovanissimo. Sì, sì, sì. Io penso che lui abbia vissuto l'essere ambasciatore proprio come una missione, ma una missione umanitaria anche nel cercare di aiutare la popolazione a crescere, come gli riservava l'ambito naturalmente delle sue funzioni. Tra l'altro con la moglie Zacchia ha fondato un'associazione per dare un'istruzione alle bambine che si trovano in strada che mai potrebbero altrimenti averne e avere un futuro dignitoso e degno di questo nome. Lei ha portato una foto che riguarda proprio un dono dell'ambasciatore. Ce la racconta? Ora la regia certamente ce la manderà in onda. Sì, dunque, siamo andati a visitare questo centro per ragazzi di strada. È un centro diurno che è sostenuto da piccole ONG, quindi grazie a loro questo centro diurno può accogliere al mattino i ragazzi di strada che vogliono che si presentano. Questo centro offre possibilità di visite mediche, danno la possibilità di un letto per riposare e di un medico per essere visitati e anche del cibo. Poi al pomeriggio chiude. Nella visita non è molto grande appunto il centro. Nella visita abbiamo visto questo tappeto elastico e devo dire che mi ha incuriosito questo tappeto perché siamo in un'area dove devi proprio andare per trovare questo centro. Mi ha incuriosito questo tappeto elastico in quel luogo e abbiamo chiesto come mai era lì e è stato un dono di Luca Attanasio. Quindi dare un segno di gioia, di divertimento all'interno appunto di un contesto veramente difficile. Certo. Oggi per chi ci ascolta in diretta di giovedì è il giorno dei funerali di quel papà, di quella mamma e di quel bambino di 12 anni che sono stati uccisi a Paderno Dugnano dal figlio maggiore diciassettenne. L'arcivescovo come sapete stiamo vedendo qualche immagine. L'arcivescovo ha presieduto i funerali, le esequie e ha detto parole veramente molto belle nell'attesa di approfondirle come giusto che sia. Io voglio, mi sembra doveroso dirvene qualcuna immaginato una sorta di dialogo fra il Signore che accoglie queste tre persone a partire dal fratellino più piccolo e lo sgomento di essere lassù. Ebbene l'arcivescovo ha concluso grande commozione nella chiesa di Paderno Dugnano dedicata a Santa Maria Nascente di fronte all'incompressibile tragedia la parola del Signore ci aiuta a decifrare l'enigma e a raccogliere da Lorenzo Daniele Fabio le tre persone uccise il cantico della vita e della speranza giovane di un fratello l'intensità dell'amore misterioso di una mamma e la responsabilità della parola vera di un papà credo che siano parole magnifiche su cui bisognerebbe riflettere è doloroso siamo stati tutti colpiti ma queste parole di speranza forse ci danno una via per comprendere anche un dramma di questo tipo lo chiedo a lei che ha visto anche nei viaggi missionari tanto dolore tante sì di dolore ne abbiamo visto ne vediamo sempre tanto e devo dire che la speranza naturalmente viene da una fiducia almeno nei paesi dove andiamo c'è questa fiducia nel mistero di Dio che comunque accompagna sempre però aggiungerei che se si è capaci se abbiamo la grazia di vedere gli eventi della vita accanto a questi enigmi perché non c'è una risposta è difficilissimo dire perché ci sono però si possono cogliere sempre anche dei fiorellini dei segni di speranza come appunto quello di prima che indicavo ma ne abbiamo visti tanti ecco di piccoli segni che dicono no c'è una mano che continua a guidarci c'è una forza interiore che ci invita a guardare avanti con fiducia e a continuare a lottare per un mondo diverso che è poi quello che vorremmo fosse sempre presente nei nostri cuori non solo di cristiani ma di cittadini chiedo a Don Maurizio Zago di restare con noi perché adesso abbiamo un'intervista esclusiva con il vescovo greco-cattolico di Kharkiv città martire nella parte orientale dell'Ucraina vicino al confine con la Russia lo comprendete un dramma continuo da quando è iniziata la guerra era a Milano ha avuto un incontro privato con l'arcivescovo e noi a conclusione lo abbiamo intervistato Bride in eccellenza la sua città Kharkiv ha pagato un terribile tributo di sangue con la guerra fin dall'inizio basti pensare all'attacco del maggio scorso nel centro commerciale e anche in queste ore anche se non proprio a Kharkiv vi è stato un bombardamento che ha seminato morte in una caserma ora oltretutto siete anche sulla linea del fronte del contrattacco ucraino com'è oggi la situazione e molte famiglie giovane hanno lasciato hanno scappato dalla nostra città molti scappano all'estero a Polonia specialmente molti in Italia vorrei ringraziare tutta l'Italia tutta la nostra chiesa che voi avete fatto questo aiuto alla nostra chiesa a noi che voi sostengono le nostre famiglie e aiutano noi in Ucraina e aiutano le nostre famiglie qua in Ucraina e in Italia nel fine del maggio l'armia russia ha bombardato il centro commerciale in Kharkiv era sabato dopo pomeriggio ci sono molte famiglie lì tra loro sono una famiglia molto vicina alla nostra chiesa famiglia Meroninko mamma Irena e figlia Maria in Kharkiv in Kharkiv in Kharkiv in Kharkiv nel questo giorno questa piccola bimba ha superato il suo esame di canti e loro hanno festeggiato un po' e hanno deciso di andare in questo centro commerciale questa famiglia è stata molto attiva nella nostra parrocchia Maria c'era in questa gruppa chi doveva venire qua in Italia per questo campo estivo in Como questa opportunità ma purtroppo è morta lei e lei mamma e questa è una cosa tragica cosa possono fare la chiesa e i cristiani per arginare la guerra e favorire la pace e penso che più importante è avere questa faccia di Cristo faccia di solidarietà delle misericordie perché noi siamo portatrici di Cristo cioè portatrici di pace russi devono lasciare la nostra terra solo questo significa pace giusto non posso dire questo è possibile o no a noi come cristiani possiamo solo pregare Dio perché Dio è Dio giusto e lui fa tutta la giustizia e speriamo che lui farà giustizia non solo a cielo ai cieli ma anche qua sulla terra lei crede che vi sia spazio per una trattativa diplomatica come non si stanca di chiedere Papa Francesco o si andrà ad oltranza avanti con la guerra è ottimista o pessimista Papa anche da molto aiuto umanitario per Ucraina penso che una delle cose più importanti è Papa aiuta noi a liberare i nostri bambini che sono stati presi da Russia lui vuole pace e Ucraina dice che anche noi vogliamo pace ma pace giusta noi ogni giorno preghiamo alla maestra e preghiamo voi per fare questo insieme per pregare Dio misericordioso perché solo lui può fermare questa terribile guerra il 26 giugno scorso una trentina di ragazzi ucraini sono stati qui proprio in arcivescovado dopo aver visitato il Duomo e hanno dialogato con l'arcivescovo cosa può fare la chiesa ambrosiana per la vostra chiesa ucraina penso che è molto importante avere un luogo sicuro per i bambini passare tempo qua in Italia questa era un'esperienza molto positiva per ottenere questa gioia che deve ottenere ogni bambino questi bambini che sono tornati da qua mi hanno detto che vogliono imparare la lingua italiana possiamo dire nella nostra piccola scuola e io ho venuto qua per ringraziare voi tutti in Italia diaco io eccellenza grazie eccellenza beh insomma ci siamo anche inventati un grazie in ucraino che però era la parola giusta e vi assicuro insomma la situazione è tremenda noi abbiamo non abbiamo ovviamente persone in ucraina però ci sono tanti ucraini nella nostra diocesi più volte è stato qui ospite padre Igor Krupa insomma che queste guerre non finiscono è una vera tragedia ora ci lasciamo per qualche momento ma torniamo tra pochissimo con il Duomo e l'inizio dell'anno pastorale ben ritrovati nei nostri studi è rimasto con noi il nostro ospite Don Maurizio Zago che naturalmente ringrazio andiamo in Duomo ve l'ho annunciato l'inizio dell'anno pastorale con il pontificale solenne presieduto come ovvio dall'arcivescoo l'elenco delle disgrazie e delle sofferenze è fin troppo consueto e troppo deprimente i cristiani non si limitano però a dire e a soffrire per tante situazioni ma intravedono la possibilità di una salvezza proprio perché credono che Gesù è il salvatore quindi noi cominciamo l'anno pastorale non diciamo gravati dal pessimismo ma piuttosto incoraggiati dalla presenza amica del Signore che non ci abbandona mai è questo l'auspicio che l'arcivescovo esprime come una consegna al termine del pontificale della natività della beata Vergine Maria da lui presieduto in Duomo con cui si è aperto come tradizione l'anno pastorale dell'arcidiocesi rito solenne in cui si svolge anche la missione di tre candidati al diaconato e al presbiterato e otto al diaconato permanente rito concelebrato da sette vescovi dal capitolo metropolitano della cattedrale dal consiglio episcopale milanese dai superiori del seminario da parroci e preti per un totale di 150 presbiteri molti diaconi permanenti presenti aprono la messa come sempre nelle solennità il canto dei dodici chiri ambrosiani e il simbolico omaggio floreale e di un cero da parte di una famiglia e di una consacrata alla settecentesca magnifica icona della madonna posta in altare maggiore poi l'omelia dell'arcivescovo con quell'indicazione chiara soprattutto ai candidati questo non dovete perdere cari candidati la relazione personale con Gesù forse ci aspettano prove difficoltà fatiche ma anche noi come Maria non proveremo altra angoscia che quel giorno in cui avremo l'impressione di aver perso Gesù poi però lo ritroviamo sappiamo dove cercarlo nel segno della eucaristia il richiamo è a non perdere mai tale relazione personale con Cristo appunto poi il rito di ammissione con la presentazione degli aspiranti che chiamati per nome a uno a uno si porta nei piedi dell'altar maggiore il loro si lo voglio si lo ha consento necessario delle mogli dei candidati al diaconato permanente sette su otto sono infatti quest'anno sposati si ha consento e sempre quest'anno si compie una sorta di sorpasso storico infatti tre sono i candidati al diaconato e al presbiterato e otto quelli al diaconato permanente come lei sa io non sono tanto sensibile ai numeri quindi non è la prima cosa che mi fa pensare ecco questo fatto della contrazione numerica dei seminaristi certamente il numero dei candidati al diaconato permanente dice che ci sono uomini adulti che hanno già avuto esperienza di vita che vivono in famiglia che hanno una professione e che avvertono la chiamata a un servizio nel ministero ordinato quindi per dire che il ministero sta cambiando forma perché non è riservato ai preti e anche noi preti dobbiamo imparare a collaborare con i diaconi come con tutto il popolo cristiano però il prete rimane colui che preside l'eucaristia rimane colui che risponde a coloro che vogliono dire basta al peccato con la soluzione quindi la differenza numerica è meno rilevante della chiamata alla santità di chiunque si metta a disposizione di Dio per rendere possibile la santificazione del popolo cristiano ecco prima abbiamo detto fideidonum cercasi diciamo così e magari fideidonum laici ecco anche questo è un segno beh senz'altro è un segno che la missione è come dire di tutta la chiesa quindi fuori di dubbio non è soltanto riservata a una categoria di persone quindi senz'altro la chiesa il cammino della chiesa ci fa capire che questo aspetto è legato ad ogni battezzato come Papa Francesco ormai da tempo ci fa dire quindi abbiamo questo incarico dell'annuncio del Vangelo certo qualche domanda ce la fa fare ecco questo calo di vocazioni certo non quello di perdere la speranza perché la certezza del Signore che guida la sua chiesa c'è però qualche domanda ce la fa porre magari più sulla linea del dire vediamo come mai il mondo giovanile sembra essere così ma è davvero così lontano o anche noi non riusciamo più in qualche maniera a parlargli esperienze giovanili in missione sono ancora abbastanza presenti ai gruppi giovanili che vanno e vivono esperienze di questo genere poi magari diventa difficile come dire fare scelte che possano durare per tutta la vita come in tutte le cose certo non è solo la scelta impegnativa sicuramente di dire un sì definitivo ma vorrei dire ogni sì definitivo che sia nella vita matrimoniale che sia nella vita lavorativa che pare molto fluido in questo momento quindi no no certo la decisione di prendere un impegno per la vita oggi come dire deve affrontare molti punti interrogativi che è anche giusto affrontare perché sono cambiati i tempi sono cambiate le situazioni entro i quali i giovani vivono questo non è per dire che non ci possono essere vanno prese in considerazione le difficoltà che i giovani in qualche maniera vivono da questo punto di vista eppure c'è ancora entusiasmo proprio in questi giorni vi è stata la conferenza stampa era presente anche Don Zago per il grande momento degli 80 anni del CSI che verrà festeggiato sabato in Piazza del Dio Duomo dalle 8 della mattina alle 8 della sera di tutto di più ma ve lo racconteremo e il CSI ha un'iniziativa internazionale CSI per il mondo in cui porta la bellezza dello sport a ragazzi che vivono magari col pallone fatto di stracci e diceva il presidente del CSI Milano Massimo Achini che i ragazzi vogliono andare al CSI fare questa esperienza andare al CSI per il mondo si tra l'altro da un paio d'anni abbiamo iniziato anche questo incontro con diciamo con l'ufficio con la diocesi per cui il CSI si è impegnato a seguire alcune aree giovanili dove sono presenti i nostri sacerdoti per esempio a Pucalpa mentre in Camerun hanno già una tradizione molto più lunga però per esempio a Pucalpa in Perù sono avvenuti un po' i primi contatti e si vedrà un po' come può continuare questa collaborazione e quindi sarà sicuramente molto bello io ve l'ho detto e lo ridico per chi ha la possibilità in Piazza del Duomo tutta la giornata campioni divertimento sport di base proposte di livello ci sarà anche una partita di calcio Don Camillo Peppone tra la nazionale dei sindaci e una squadra di sacerdoti ambrosiani di parroci ambrosiani quindi insomma questa in effetti voglio proprio vederla perché credo il calcio d'inizio chi lo dà l'arcivescovo l'arcivescovo mi pare di aver capito e poi vi sarà l'editto dell'arcivescovo per le società sportive e quindi come vi ho già detto lo racconteremo ma il 14 sabato prima diciamo dell'arcivescovo in Piazza del Duomo che sarà intorno alle 4 e mezzo vi sarà la celebrazione sempre magnifica suggestiva dei vesperi e nel triduo del Santo Chiodo nella festa dell'esaltazione della Santa Croce e con la nivola l'arcivescovo ascenderà al vertice dell'abside del Duomo per portare in altare maggiore la reliquia la più famosa reliquia della nostra diocesi cioè il Santo Chiodo che verrà esposta per tre giorni fino a lunedì proprio in altare maggiore alla devozione dei fedeli come sapete viene posto in essere e azionato questo questa nivola questa nuvola in dialetto che in verità è una sorta di ascensore un tempo ai tempi di San Carlo si dice che l'abbia ma insomma non è proprio vero ma si dice che l'abbia immaginata e progettata Leonardo ma ai tempi di San Carlo e anche dopo andavano su a forza di braccia adesso ci sono degli agani ovviamente è tutto molto anche controllato perché effettivamente è complesso questo andare al vertice dell'abside della cattedrale ma Don Luca Fossati che ringrazio moltissimo che collabora con l'ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi di Milano è salito sulla nivola ovviamente prima di quando sarà la celebrazione quindi questa volta non tanto immagini della nivola vi proponiamo in conclusione ma immagini dalla nivola per vedere un Duomo inatteso e magnifico e quindi godiamoci questo momento grazie a tutti bene allora ringrazio Don Maurizio Zago responsabile dell'ufficio di pastorale missionaria che è stato con noi e speriamo di riaverla presto nei nostri studi anche se so che lei non è molto amante della televisione non commento benissimo grazie per averci seguito a me non rimane che darvi appuntamento giovedì prossimo e anche a tutti i giorni dal lunedì al venerdì dopo il telegiornale di Telenova ma poi sul portale della diocese di Milano sulla app di Telenova con la chiesa nella città oggi diciamo la striscia quotidiana di approfondimento per raccontare sempre meglio e sempre di più tutto ciò che accade nella nostra chiesa grazie per averci seguito arrivederci ciao Grazie a tutti.